Ci sono dei momenti in cui non ci si può rassegnare l'andazzo delle cose alla legge del più forte. Bisogna trovare il coraggio di esporsi e denunciare. Questo, tra le altre cose, dichiara Nino Di Matteo, spiegando in questo modo la sua decisione di rompere un silenzio che per tutta la durata della sua carriera il Pubblico Ministero Antimafia lo ha tenuto lontano da microfoni e riflettori. Di Matteo è stato a Trani, ospite della Lega Navale del presidente Giuseppe Di Ciommo, per presentare Assedio, il volume edito da Mondadori che ci presenta il sostituto della procura distrettuale antimafia di Palermo in un'intervista a cura di Loris Mazzetti che si delinea piuttosto come un dialogo, un accorato sforzo di capire come e perché la riforma costituzionale della giustizia, la legge Bavaglio, il processo breve metterebbero a rischio la democrazia. Ma Di Matteo si è soffermato anche sul tema del giorno, la corruzione dilagante, il riaffiorare di un malcostume e che in Italia negli ultimi tempi sembra nuovamente rafforzarsi. La lotta alla corruzione e la lotta alla mafia non possono essere considerati argomenti diversi. La mafia riesce a penetrare il mondo della politica, dell'imprenditoria, dell'economia sana attraverso tutta una serie di condotte, di corruzione, attraverso gli abusi d'uffici dei pubblici amministratori. È necessario che, così come è incisiva l'azione di contrasto nei confronti della mafia, il legislatore prevede degli strumenti più incisivi per combattere la corruzione dilagante. Filo conduttore del libro è la convinzione di Di Matteo che il rapporto tra mafia e politica sia il cuore del problema, soprattutto in un momento storico come questo, in cui lo Stato è riuscito a colpire duramente l'ala militare di Cosa Nostra, ci si deve però rendere conto che per sconfiggere definitivamente la mafia è assolutamente necessario reicidere i suoi rapporti con la politica. Per questo la magistratura si sente ancora sotto assedio. Una magistratura veramente autonoma, veramente indipendente dal potere politico può essere un efficace contrattare al dilagare della mafia e della corruzione. Temo che ancora gran parte della politica invece voglia una magistratura asservita e diventi un potere servente rispetto al potere politico proprio perché non accetta che le indagini della magistratura siano rivolte a 360 gradi anche contro quei politici, quei imprenditori, quei potenti che del sistema della corruzione hanno fatto il loro sistema di acquisizione di sempre maggiore potere. La possibile riforma della giustizia cambierebbe in maniera precisa il ruolo del pubblico ministero. L'indagine verrebbe affidata alla polizia giudiziaria, sostanzialmente i magistrati diverrebbero dei burocrati. Non solo, con l'estensione della responsabilità civile, la loro attività sarebbe ancora più sul filo del rasoio. Estendere ancora di più la responsabilità civile e soprattutto prevedere che il magistrato che per esempio conduce un'indagine possa essere direttamente tratto a giudizio, chiamato in giudizio dal suo indagato e infutato, significa paralizzare le inchieste della magistratura. Significa soprattutto tendere ad un magistrato che più che preoccuparsi di fare un'indagine seria, incisiva o di emettere un provvedimento giusto, si preoccupi di emettere un provvedimento innocuo che comunque non lo possa esporre al rischio di un eventuale futuro risarcimento diretto.